Eccolo, eccolo, il video su Google Gemini. Allora, innanzitutto questo è uno di quei video dove non c'è lo schermo, sono solito che parlo, non è montato, lo registro, lo registro di sera, sono preso del tempo per registrarlo e lo butto così sul canale senza nemmeno fare dei tagli, quindi sarà molto lungo e probabilmente ve lo dovete vedere a 1,5x, così fate prima. Ovviamente, chi vuole i tutorial, si vada a vedere i tutorial e lasci un piccolo gruppetto di noi a riflettere su queste cose, a noi che ci piace pure accendere il cervello ogni tanto. Tanto so che questo video farà pochissime visualizzazioni, però secondo me è interessante discutere un pochino. Google Gemini. In questi giorni in parecchi mi avete chiesto cosa ne penso di quello che è uscito fuori e anche questa volta, come ho fatto con la situazione di OpenAI di qualche settimana fa, ho deciso di prendermi del tempo, nonostante mi avete letteralmente inondato di messaggi. Io sono contento, mi fa piacere questa cosa, però sono cose sulle quali bisogna prendersi del tempo, secondo me leggere, informarsi, ma anche proprio ragionare, no? Farsi un'idea. Quindi voglio provare a fare qualche ragionamento con voi. Mi sono buttato come sempre un paio di note di là, quindi non c'è una scaletta questo video, però c'ho delle note di alcune cose di cui voglio parlare sulla situazione Google Gemini e quello che ci possiamo portare a casa, secondo me anche che è importante, no? Perché io non sto qua a dare le news, non sono un sito di news, non so, di giornalismo o di aggiornamento. Voglio fare qualcosa di più, quindi condividere comunque qualche riflessione. Ovviamente prima di tuffarci nel video di questa cosa, se volete supportare questo canale, se volete supportare questo progetto, lo sapete, potete cliccare il pulsante grazie qui sotto e fare una piccola donazione, oppure cliccare il pulsante per l'abbonamento, l'abbonamento è una donazione che fate tutti i mesi e sbloccate anche delle funzionalità su YouTube. Questo è un modo con il quale potete supportare questo progetto, che porta della formazione dell'informazione, secondo me, di qualità. E non mi vergogno a dirlo ad alta voce, no? Non per essere spavaldo, ma perché la prima riflessione che voglio fare, sono cinque riflessioni che voglio fare, la prima riflessione che voglio fare è proprio su questa cosa qua. E cioè, penso di essere stato, non voglio esaggiare dicendo l'unica persona, ma una delle pochissime persone che quando è uscito Google Gemini non ha fatto il video Google ha stracciato OpenAI, Gemini, Asfalta, cioè GPT, perché YouTube e non solo, anche blog, magazine, siti di news, tutti quanti sono andati in quella direzione, tutti quanti, perché ovviamente Google sulla prima pagina ci ha messo quel bel grafico dicendo guardate noi siamo qua in alto, guardate OpenAI quanto è in basso, e basta. Tutti quanti hanno preso quel dato e hanno detto asfaltato, distrutto, calpestato, come se fosse proprio di ragazzini delle medie. Questa è molto triste, questa cosa. Dicevo, penso di essere stato una delle pochissime persone, non parlo solo di YouTube Italia, in generale, mi guardo un botto di contenuti anche da canali qui in Inghilterra e da canali negli Stati Uniti, e sono andati tutti quanti subito nella direzione di, già GPT è morto, OpenAI è morta, Google è tornato, Google è asfaltato, Google ha distrutto, Google ha... Andatevi a rivedere quel video se non l'avete visto, perché in tempi non sospetti, quindi quando ancora non era uscita fuori la merda, che è uscita fuori dopo, quindi non potevo sapere ovviamente che c'era della merda, in tempi non sospetti ho detto in quel video, pigliamo questi benchmark con le pinze, perché so come vengono fatti questi benchmark, so quanti problemi hanno questi benchmark, e so poi le aziende quanto sono brave a modificarseli a piacere loro. E quindi nel titolo del video, che potete ancora andare a vedere, c'è scritto fin dall'inizio è una trovata di marketing o c'è qualcosa di interessante sotto. Nella descrizione del video dico che ho parecchi dubbi, quindi prima che ci fosse tutto quello che è uscito fuori, avevo già espresso un po' di dubbi, perché l'annuncio non mi era piaciuto, perché tutta la comunicazione fatta contro OpenAI mi era sembrato un colpo basso, non da un'azienda Google, abituata a comunicare in un certo modo negli anni passati, non per quello che era il posizionamento di Google. Non mi era piaciuta questa ansia proprio di rincorrere, non mi era piaciuto il fatto che avevano fatto tre versioni del prodotto, sembra l'iPhone di Apple, non si capisce più un cazzo, non mi era piaciuto il fatto che avessero fatto dei benchmark con una versione del prodotto che poi non era testabile, e quindi questo era proprio forse il colpo più basso, questa era veramente la cosa più terribile di tutto, quindi non avevamo ancora idea del marcio che c'era sotto, ma alcuni segnali si facevano notare. Su questa cosa c'è una riflessione importante da fare, sul come dobbiamo prendere con le pinze quello che ci viene dato da le aziende che ovviamente fanno questi annunci, questo vale per tutti, non so qua dire OpenAI è meglio o è peggio, vale per tutti quanti, quindi ovviamente quello che ci danno nei loro annunci, i numeri che scrivono sui loro siti o sui loro comunicati stampa, quello che ovviamente poi copiano e incollano anche i vari siti di news, eccetera eccetera, ma i creator anche, visto che come me immagino molti di voi si informano anche con i creator, quindi con podcast, newsletter, canali YouTube, eccetera eccetera, metto anche noi creator dentro, perché se a un certo punto anche noi facciamo parte di questo servizio di fornire la notizia, è chiaro che anche noi dobbiamo fare attenzione, no? Siamo parte del problema, se corriamo a fare il video e scrivere devastante, asfaltato, Google batte OpenAI, eccetera eccetera. E' stato così raga, è stato così, il 95% della roba che ho visto io, italiana e straniera, era così. C'è poco da fare, c'è poco da girarci intorno, cercate di vedere se saranno ancora là. Molti di questi YouTuber poi hanno fatto ovviamente dei video dopo, dove hanno dato un'opinione un pochino più ragionata, un pochino più pacata, un pochino più ridimensionata, perché è uscito fuori che molte di quelle cose che aveva detto Google erano palesemente delle cazzate, no? Quindi dopo abbiamo avuto la certezza. Io ho pubblicato il video che era giovedì mattina, venerdì già avevo scritto sui mie social, ragazzi c'è molta roba che puzza, perché iniziavano a uscire le prime cose, no? Quindi prima che arrivassero anche proprio i video di debunking vere e proprie. Già delle cose che mi leggevo non mi tornavano molte cose, quindi dopo poche ore avevo già scritto, raga, molta roba non mi convince, ne vedremo delle bene nei prossimi giorni. Non sto qui, non vado nel dettaglio, il video era tutto fake, i benchmark sono palesemente montati ad hoc, anzi andatevi a vedere il video di Matteo Flora, perché ha fatto un ottimo video su questa cosa e quello è proprio un riassunto perfetto di tutto quello che c'è da sapere, non voglio stare qui a ridire le stesse cose, lui ha fatto un ottimo riassunto, dove parla di queste due tematiche soprattutto, problema video, problema benchmark. La prima riflessione quindi è su questo, attenzione alle fonti, attenzione a dare per oro colato e per buono e per scontato tutto quello che ci viene dalle aziende che comunicano questa roba, ma anche da chi di conseguenza prende questi dati per buoni e li reimpasta e bam, ce li spara in faccia così senza metterci un po' di, come dire, un po' di, nemmeno di pensiero critico, poi ci torniamo sul pensiero critico che è passato di moda a quanto pare. Questa è fondamentale, prima riflessione. Collegata a questa c'è una seconda riflessione e cioè l'intelligenza artificiale per l'impatto che avrà nelle nostre vite secondo me richiede due cose che sono due cose strettamente collegate ma diverse e cioè la formazione e l'informazione. Questa è una cosa di cui mi sentite parlare spesso se mi seguite da un po'. So che molti di voi sono arrivati su questo, sono arrivati qui sopra da quando ho iniziato a parlare di AI, no? Come ho detto molte volte sono vent'anni che faccio il suo lavoro. Intendo sia che lavoro nel digitale come imprenditore sia che faccio contenuti. E qui c'è il tema dell'informazione e della formazione che sono due argomenti importantissimi perché se da un lato ci dobbiamo formare e quindi dobbiamo capire in che modo possiamo utilizzare queste tecnologie nel nostro lavoro in che modo possono aiutarci a migliorare i nostri business per tutte le persone che come me fanno impresa fanno la libera professione, no? E vogliono sapere abbatto costi risparmio tempo ottimizzo processi, no? Posso scalare maggiormente raggiungere nuovi mercati tutte le cose bellissime per le quali siamo utilizzando l'intelligenza artificiale e quella è una parte proprio di formazione allora mi compro i corsi mi compro i libri mi guardo i tutorial mi ascolti i podcast eccetera eccetera è importante quella roba lì ma non basta probabilmente, no? O almeno comunque ad una certa categoria di persone quella roba non deve bastare c'è una parte di informazione e la parte di informazione per me invece è quello del rimanere sul pezzo essere aggiornati capire un pochino cosa succede all'interno di un settore non sto dicendo che questa roba serve a tutti quanti eh no, lungi da me altrimenti dovremmo essere tutti quanti sempre aggiornati su tutto quello che succede però una cosa così importante così dirompente così impattante sulle nostre aziende sui nostri lavori ma osare dire anche sulle nostre vite richiede anche una parte di informazione che è fondamentale e per informazione intendo proprio avere anche le news capire come si sta muovendo quel mercato cosa fanno i principali player di quel mercato cosa succede dal punto di vista delle regolamentazioni quindi come reagisce anche la politica i governi in che modo queste due entità si interfacciano e poi se ci sono altre entità altri stakeholder coinvolti che ruolo hanno e così via cosa succede in giro per il mondo e non solo nelle quattro mura del nostro paese e così via no, la parte di informazione per me è quella è quella di stare sul pezzo che ovviamente richiede uno sforzo immane in un momento e in un settore come questo che sta andando alla velocità della luce però questa riflessione per me è importante cioè è una riflessione che mi invita a dire io voglio bene e mi diverto pure a fare i tutorial sono uno smanettone io in primis se no alla fine sono un nerd che questa cosa gli piace proprio sporcarsi le mani e provarle oltre a usarle per me mi piace proprio divulgarle raccontarlo ma mi raccomando non vi fermate solo all'aspetto tecnico della cosa non vi fermate e questo è un invito che vi faccio proprio a cuore aperto cioè cercate di capire quello che c'è dietro cercate di capire quelle che sono le dinamiche cercate di capire quelle che sono i player cercate di capire quelle che sono gli equilibri in gioco perché sta roba ha un impatto enorme sulle nostre vite e probabilmente rivedremo questo video no rivedrò voi probabilmente no rivedrò questo video tra qualche anno e dirò porca troia non avevo proprio idea di quello che stava per succedere non avevo proprio idea di quanto era più grosso di noi quello che stava per succedere ed ecco perché secondo me è importante anche quella parte diciamo di informazione oltre che di formazione quindi è bello mi piace lo sapete lo faccio continuerò a fare tutta la parte tecnica tutorial no quella parte un po' più da smanettoni facciamo questo facciamo quest'altro vi faccio vedere il tool nuovo che ho provato vi faccio l'elenco vi faccio vedere come farlo e così via però poi è importante pure andare a capire un pochino tutto quello che c'è dietro ok altrimenti siamo solo qua a fare i testi coach a GPT e le immagini carine con Dalì o con Leonardo e poi lì fuori succedono cose clamorose tipo un colosso come Google che fa una presentazione dove molto della roba è non voglio dire fake ma veramente diciamo presentata con delle ottime PR no con molto marketing e poi molta poca molta poca cicci e lo sapete questo è anche il motivo per il quale poi ho fondato un'academy no IA360 nasce perché voleva andare oltre a quella roba lì cioè il singolo tutorial messo su YouTube ho detto sta roba sì è bella è utile è importante ma probabilmente ci sono delle persone che vogliono di più che hanno bisogno di più e di più intendo sia sulla parte formativa sia sulla parte informativa e quello è importante e infatti dentro l'academy di questa cosa ne stiamo parlando cioè subito abbiamo iniziato a parlare magari il tempo di mettere il contenuto su YouTube non ce l'ho perché sul contenuto ci voglio ragionare perché devo registrarlo devo caricarlo eccetera eccetera quindi fisicamente richiede più tempo c'è un processo ma la discussione inizia nel frattempo all'interno dell'academy ed era questo qua uno dei motivi principali no per dire c'è bisogno di tutte e due cose a chi fa impresa lì fuori a chi fa la libera professione ma non solo perché dentro stanno arrivando un sacco di studenti per esempio gente che magari è manager che è dipendente no che però dice voglio stare in un posto nel quale sì studio ma capisco pure che cazzo sta succedendo nel frattempo e questo è un aspetto secondo me importante parlavo di pensiero critico e quindi mi collego al terzo punto alla terza riflessione il pensiero critico mi avete sentito dire spesso e questo veramente mi ricordo che c'è un articolo sul blog che è di mesi fa forse di prima dell'estate che dicevo raga vi prego smettiamolo con questo tifo da stadio è google contro microsoft è mid journey contro da lì è questo asfaltato quest'altro è questo ha distrutto quest'altro sembra di vedere che ne so arsenal celsi qua a londra o milan inter in italia che ne so roma lazio qualsiasi sia l'equivalente in italia tifo da stadio che per me significa mettere da parte proprio la parte di pensiero critico la parte di ragionamento la parte di analisi quella parte che è fondamentale quella razionale nel quale cerchiamo di capire le cose prima di di aprire la bocca e di parlare per semplicemente sventolare una bandiera perché magari ci è sempre piaciuta microsoft e quindi vogliamo dire la nostra su microsoft ci è sempre piaciuta apple e vogliamo dire la nostra su apple o google o amazon o open ai che è uno dei player di questo di questo ambito e per quanto sapete che in questo momento a me sta piacendo molto come lavora open ai per quello che ha fatto per questo settore per il prodotto pazzesco che sta costruendo per le opportunità che ha che ha creato sono anche molto critico rispetto ad alcune cose no vi basta vedere il video che ho fatto su su open ai e sulla situazione del licenziamento di sam altman e così via il pensiero critico è fondamentale pensiero critico che se è vero come dicevo prima o devono sviluppare i giornalisti i creator no tutti quelli che sono dal lato di di chi racconta e dà l'informazione e poi dall'altro lato invece o dovete sviluppare voi come consumatori di questa roba qua no nel senso non mi fidate di nessuno manco di me cioè vedete bene dieci di video su una cosa non solo il mio da più fonti dall'estero da canali piccoli e canali grandi da giornali famosi e meno famosi da fonti ufficiali e fonti non ufficiali eccetera eccetera no provando a collegare i puntini a capire ma ci sta qualcosa che mi sta sfuggendo a vedere se ci sono discussioni su reddit su x no su piattaforme dove di sta roba se ne parla tutti i giorni e la gente fa emergere quando c'è qualcosa che non torna che puzza e invece è diventato un tifo da stadio tifo da stadio perché io sono stato molto critico con google durante questo anno mi hanno deluso quasi tutti gli annunci bard l'ho visto zoppicare ha fatto dei passi in avanti ad ogni aggiornamento io ero entusiasta di quegli aggiornamenti poi lo usavo un po' nella quotidianità e rientrava pure quell'entusiasmo sono stato molto critico e allora spesso sotto qualche video qualcuno me ne voleva dire tu ce l'hai con google come se a me non so mi pagassi open eye per dire che c'è gpt è meglio ma è sempre stato così cioè io vengo dall'open source mi ricordo come era i tempi di linux contro windows oppure i linux contro linux voglio dire ci odiavamo pure da diverse distribuzioni di linux quindi lo so che è sempre stato così e sarà sempre così solo che oggi non ho più vent'anni non sto più all'università e provo a usar la testa invece di tifare per uno per l'altro anche perché poi a me che cazzo me ne frego voglio se i prodotti buoni voglio che ci sia una concorrenza di livello voglio che le aziende si comportino in un certo modo e così via quindi proviamo per un atto a metterle da parte questo tifo da stadio e invece a fare dei ragionamenti anche quando ne discutiamo nei commenti no a me piace discuterne con chi di voi si pone anche se magari c'è un'idea diversa dalla mia per dire ok Raff ragioniamo c'è una discussione costruttiva no viva questo viva quest'altro perché quello non porta a niente non aiuta a voi non aiuta a me non aiuta a nessuno questo è importante secondo me come tema c'è proprio questo problema del tifo da stadio che è una cosa che a me lascia veramente spiazzato soprattutto quando a fare gente di 40 50 60 anni posso capire l'entusiasmo di un 10 a 7 di un 20 anni ma no se sei adulto se questa roba la fai per lavoro non dovremo comportarci così e invece penso che è quello che sta succedendo ogni singola volta ad ogni singolo annuncio mi collego la quarta riflessione rimanendo un attimo su google in quel video sempre che ho fatto un'altra volta ho detto per me è proprio palese che google è in difficoltà è proprio palese non non l'avrei mai pensato un giorno di poter dire questa cosa per quanto è diventato leader per quanto è diventato mezzo monopolista su alcune cose per quanto è diventato grosso è forte è imbattibile eccetera eccetera per me non era difficile immaginavo un giorno nel quale google era quello in difficoltà e invece quel giorno è arrivato come sempre arrivano sempre poi i momenti nei quali sono in difficoltà pure i big e quindi c'è stata una fase nella quale IBM era quello grosso e cattivo e lento c'era qualcuno di piccolo che gli no gli rosicchiava fette di mercato c'è stata una fase nella quale era microsoft quella lenta grossa e cattiva e qualcuno gli rosicchiava fette di mercato google è arrivato il momento di google questo è il suo momento già da qualche anno ma con le AI lo sta dimostrando ancora di più forse questo è il momento nel quale è google quella lenta non più così buona come una volta no il don't be able mi sa che non è più rispettato così così tanto in difficoltà pachidermica su certe cose a volte è imbarazzante negli annunci e qualcuno di piccolino gli rosicchia fette di mercato a sto giro open AI alla fine la storia è un ciclo che si ripete all'infinito lo sappiamo ne ho parlato anche in un altro video dove parlo di intelligenza artificiale di ricorsi storici molto bella andate per recuperare un talk che ho fatto su questa cosa si chiama hai paura delle AI guarda questo video questa cosa è palese e mi sembra che chi di questa cosa non si sia accorto o c'ha la testa sotto la sabbia o sta facendo proprio tifo da stadio c'è qualcuno che ancora pensa che Google non sia in difficoltà a me sembra proprio palese sembra palese già in quell'annuncio in quella pagina dove tu fai tutta la comunicazione dicendo guardate quanto siamo bravi guardate quanto abbiamo superato gli altri di 1.3 e poi abbiamo visto che con l'1.3 era pure mezzo farlocco era già imbarazzante fare tutta la comunicazione su quello e poi quanto quel dato è pure così diciamo molto colorato lo diventa ancora di più per me è una grossa delusione non tanto Gemini mi aspetto ovviamente che la versione che uscirà nel 2024 non la terza quella figa quella diciamo quella quella che ci hanno dato in pasto così il contentino che hanno integrato in Bard ho provato a smanettarci un po' non lo faccio il tutorial ragazzi volevo fare il tutorial ma non lo faccio è veramente imbarazzante non lo faccio è una grossa delusione è una grossa delusione perché mi aspetto di più perché è un'azienda che può fare di più che ci ha abituata di più perché è un'azienda che ha un grande ecosistema hanno sempre avuto una grande visione ed è quello che mi aspetto da una grossa azienda no? da Google che nel passato è stata fondamentale in certi passaggi storici in certi momenti per certe industrie e così via può può avere questo ruolo nell'EI e secondo me deve avere questo ruolo nell'EI ovviamente in un mercato di concorrenza dove ci sono tanti altri a giocarsela ed è il motivo per cui nacque OpenAI all'inizio diciamo la sua mission originale per evitare un monopolio di Google un mercato nel quale per esempio Microsoft si sta muovendo molto meglio no? la Microsoft che una volta era quella lenta poi chiedermica cattiva ingessata eccetera si sta muovendo in maniera molto molto meglio con quello che fa con OpenAI e non solo dico in generale quindi Google secondo me è in serie di difficoltà e per me personalmente è una grande delusione mi aspetto ovviamente di essere smentito no? che quindi magari proviamo Ultra Gemini Ultra l'anno prossimo e dico oh raga alzo le mani è veramente una bomba sta roba ma da qui a dire che l'EGI è vicina ma quando mai? ma dove? ma non scherziamo proprio ho visto dei video che dicevano no no questo è proprio EGI ci siamo nel 99% ci manca l'ultimo pezzettino che abbiamo fatto assolutamente no faccio la quinta e ultima riflessione che secondo me collega un po' questi quattro punti ed è una riflessione sulla reputazione noi abbiamo visto l'hype che ha avuto tutto il mondo crypto un mondo che a me non è mai piaciuto particolarmente grande fan della tecnologia mai mai adorato le applicazioni NFT Bitcoin Cryptovaluta in generale zero non mi ha mai appassionato lo sapete sul canale forse ho fatto due o tre video su quella roba nei quali ero anche abbastanza critico ovviamente però da osservatore da diciamo anche da smanettone no? e da appassionato di questi temi ho visto come boom 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 e poi un paio di di mosse false un paio di news pesanti un paio di aziende che fanno cazzate e crolla sotto il peso ovviamente di queste cose non dico un'intera industria perché ovviamente non è così però la reputazione quantomeno no? ovviamente è facile che questa cosa ricapiti e potrebbero eventi del genere portare proprio a questo cioè la settimana prima se Maltman viene licenziato poi riassunto e poi 300 problemi di contorno e la soppopera che manco che manco beautiful la settimana dopo google fa l'annuncio stiamo spaccando tutto eccetera e poi scopri che la maggior parte di quella roba è solo è solo ottima PR e è poco altro e uno va avanti così poi perdi la fiducia di chi quei prodotti li deve comprare chi in quelle aziende deve investire chi dall'altro lato semplicemente magari paga gli abbonamenti a no? a a queste aziende eccetera eccetera è facile che ripeti quella serie di errori e finisci in quella situazione lì prova a fare una previsione ovviamente le previsioni sono sempre pericolose e la cazzata dietro l'angolo il passo falso dietro l'angolo non penso che accada una roba del genere perché l'impatto che le ha sulla nostra vita è proprio imparagonabile a quello che ha diciamo tutto il mondo blockchain ed intorno chiamiamolo chiamiamolo così e e soprattutto in un anno ha già stravolto le nostre vite senza proprio nessun tipo di paragone il paragone lo faccio per quello che può succedere proprio in termini di reputazione di un mercato intero di un'industria intera agli occhi di investitori agli occhi di media agli occhi del pubblico tecnico del pubblico generalista tutte le entità che sono coinvolte in questa cosa e ovviamente si fa un lavoro nel quale si vuole far capire oh guardate delle AI ci possiamo fidare oh guardate le AI non ucciderà il mondo oh guardate se le AI la facciamo bene la teniamo sotto controllo eccetera i benefici sono più dei rischi e vale la pena correre qualche rischio per i benefici che ci portiamo a casa se uno lavora in quella direzione è chiaro che poi se dall'altro lato vengono fatte una cazzata dietro l'altro smonti tutta questa roba qua no? io lo sapete sono un ottimista di questa cosa altrimenti non sareste su questo su questo canale ma un ottimista con pensiero critico che quindi sa pure che se tu fai una cazzata dietro l'altra a una certa la perdi la fiducia del pubblico no? e quindi hai voglia a raccontarli fuori no vado qua tutto sotto controllo e poi non è niente sotto controllo questa non è una cosa molto rischiosa veramente molto molto pericolosa e poi che mi dispiace dispiace a me sia se mi metto il cappello da imprenditore sia se mi metto il cappello da utilizzatore finale da utente finale di questi strumenti di queste tecnologie da persona appassionata che ascolta questa roba segue questa roba vuole saperne di più e vuole vedere dove questa roba ci porterà e le enorme possibilità che ci dà utilizzare questa tecnologia e questi strumenti nella nostra vita no? lavorativa e privata come dicevamo come dicevamo prima e questo quindi è il quinto e ultimo punto la quinta e ultima riflessione perdonate perché questi video sono sempre così no? un po' senza né capo né coda sono quasi dei pensieri ad altavoce che condivido non hanno uno script quindi diciamo c'avevo dei punti l'assegnate che ho che avevo detto tutti quanti quindi vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video magari commentate qui sotto l'altra volta un sacco di voi hanno commentato per dire no Raph l'ho visto tutto c'ero l'ho visto tutto e mi è pure piaciuto l'ho messo a due peri ma me lo so visto ho ascoltato e non fa niente pur io ogni tanto mi guardo qualcosa a velocità aumentata quindi fatemi sapere cosa ne pensate e mi raccomando il pensiero critico è la skill più importante di tutte lo è sempre stato non è che prima non era importante ma in un mondo che va sempre di più verso l'intelligenza artificiale verso l'algoritmo verso l'automazione eccetera eccetera usare il nostro cazzo di cervello usarlo bene dovrei dire è veramente la skill più importante di tutte vi saluto qua fatemi sapere cosa ne pensate se l'avete ascoltato o visto fino alla fine se volete informarvi e formarvi su questa roba entrate in IA360 stiamo facendo bella roba non ci sono solo io sto portando degli esperti degli ospiti esterni che vengono a fare bei contenuti e secondo me ne vale la pena approfittate vi lascio il link qui sotto di IA360.h e se vi è piaciuto questo tipo di contenuto invece andatevi a recuperare un contenuto che ho fatto molto simile qualche giorno fa dove invece faccio qualche riflessione sulla situazione in OpenAI per chi sta guardando il video ve lo metto a schermo adesso cliccate e vi andate a vedere una bella riflessione su tutto il casino di OpenAI Sam Altman e anche qualche lezione che ci portiamo a casa noi che c'è che c'è